Arrivano gli alpini a Vicenza, un fiume di penne nere per fare la storia con una donata nazionale che verrà ricordata fra le più importanti. E noi di Rete Veneta saremo a fianco degli alpini e della gente per raccontare questo evento storico. Si parte venerdì sera con una puntata speciale di Focus dedicata alla donata agli alpini con le iniziative del capoluogo berico e del territorio. Sabato saremo in diretta dalle 11 del mattino per un lungo racconto per voci immagini di tutto quello che succede a Vicenza e non solo grazie ai collegamenti con Bassano del Grappa e Marostica. Un'intera giornata dedicata agli alpini che si concluderà in serata con la diretta della festa in centro dei tanti cori che si esibiranno nelle chiese di Vicenza e con i collegamenti dei campi per raccontare anche chi è a casa le emozioni di questo imperdibile appuntamento. Domenica infine saremo in diretta dalle 7 del mattino per portare nelle vostre case l'arrivo degli alpini in città e lo sfilamento con le fanfare e quel fiume di penne nere che sarà ricordato nella storia di Vicenza, del Veneto e degli alpini. Per tutta la giornata saremo a fianco di chi sfila con orgoglio portando in alto il nome degli alpini fino alla maina bandiera e al passaggio della stecca. Ancora una volta Rete Veneta e la tv amica degli alpini al vostro fianco per vivere assieme ogni emozione di questo grande appuntamento.